Radio Bruno Premiate le classi che hanno partecipato al ventesimo concorso Scuole in Valle d'Oro 2022-2023 percorso formativo rivolto alle scuole primarie e secondarie di Brescia e provincia. Ma è ormai 40 anni che ospitiamo in azienda studenti delle scuole primarie e secondarie principalmente e quindi chiediamo loro di fare un elaborato per questa festa. Chi vuol partecipare poi chiaramente ci sarà una classifica dei lavori più belli e verranno premiate tutte le classi che hanno partecipato. Quindi oggi ci sarà la premiazione? Oggi facciamo la festa, diciamo così, la premiazione, sì. Ok, da dove nasce l'idea? L'idea è nata in realtà dalla visita aziendale che è iniziata appunto, come dicevo, 40 anni fa per fare, come dire, coniugare il mondo della scuola al mondo del lavoro. Poi vent'anni fa, per, come dire, amplificare un po' questo discorso, si è deciso di fare un concorso per coinvolgere di più gli studenti anche dopo la visita e quindi chiediamo loro di fare un elaborato. Ci sbizzarriscono, diciamo, con tante idee ogni anno, ne vediamo di diverse. Ma sicuramente quello che è il nostro obiettivo è quello di far capire anche i ragazzi come funziona il mondo del lavoro e poi negli anni si sono inseriti anche diversi progetti tra cui appunto il progetto Piramide, una corretta alimentazione, vivere l'interculturalità per quanto riguarda anche la cucina, non solo italiana perché ormai, come si sa, le classi sono multietniche, insomma un progetto che spazia per più settori e più ambiti. Sei i progetti che sono stati proposti alle scuole. Quest'iniziativa conferma l'impegno di Valle d'Oro a essere parte attiva verso iniziative per l'educazione e la formazione dei giovani. È un progetto molto importante, è un progetto di Valle d'Oro che abbiamo patrocinato molto volontieri come sistema CNA, un progetto che vuole avvicinare i giovani al mondo della scuola, al mondo del lavoro, al mondo del fare impresa. Quindi un pezzo di storia dell'economia bresciana e anche della cultura alimentare bresciana che si avvicina sempre di più ai giovani di oggi. È ancora troppo elevata la dispersione scolastica, tante le aziende che cercano lavoratori e non trovano. C'è un mismatch ancora molto elevato tra mondo del lavoro e richiesta appunto di quelle che sono le competenze necessarie ad affrontare appunto l'economia di oggi e il futuro. Quindi benvengano questi progetti. Che cosa sperate nel futuro? Ma il futuro si crea da qui. Oggi parlare ai giovani significa parlare appunto anche di impresa, di start-up, di lavoro. Sempre più importante è appunto il lavoro della piccola media impresa bresciana, del mondo artigiano che rappresentiamo. Oggi servono competenze estremamente trasversali. I giovani oggi e anche le famiglie devono essere in qualche modo in grado di riuscire a conciliare quelle che sono le aspirazioni dei giovani ma anche con quelle che sono le richieste del mercato odierno che continua a chiedere e a richiamare appunto lavoratori. Guardi, solo l'anno scorso alla fine del 2022 da una ricerca interna CNA su una platea di oltre 200 imprese il 48% dichiarava come non si riuscissero a trovare lavoratori sia qualificati che non qualificati. Quindi il mondo del lavoro deve essere sempre più vicino al mondo della scuola.